Correva la mattina di Santo Stefano dello scorso anno, quando Francesca Ercolini, magistrato e presidente della sezione civile del Tribunale di Ancona, veniva trovata senza vita nella sua casa pesarese di Vialezzara, dopo un caso di suicidio comprovato anche dopo che l'autopsia escluse qualunque scenario di violenza da parte di terzi. A trovare il corpo senza vita della 51enne impiccatasi con un fular fu il marito Lorenzo Ruggeri, noto avvocato civilista di 56 anni, assieme al figlio, oggi 15enne. Cognuge e minore che un anno dopo risultano indagati in seguito al fascicolo aperto dalla procura dell'Aquila, competente per i casi relativi ai magistrati marchigiani. Un'indagine per sospetti maltrattamenti in famiglia avviata dalle denunce sporte dai familiari della donna da Campobasso, città d'origine della Ercolini. Procura che non ha ritenuto valida l'ipotesi di istigazione al suicidio, ma evidenziato sulla base di chat e video forniti dalla madre della Ercolini, uno scenario di complessa situazione familiare, di depressione, sospetti abusi, umiliazioni e violenze domestiche documentate attraverso immagini di lividi ed escoriazioni. Ora si procederà con l'indagine per maltrattamenti dopo che un primo PM chiese la custodia cautelare in carcere per Ruggeri in seguito a presunti tentativi di inquinamento delle prove. Una richiesta che fu respinta col fascicolo riassegnato ad altro PM. Ruggeri dovrà difendersi dalle accuse così come il figlio sul quale pende un procedimento separato dal Tribunale dei minori per concorso nel reato.